barletta da ieri ha perso un'altra figura storica della città quella di erasmo santoro deceduto ieri all'età di 83 anni il suo nome ai più giovani probabilmente dirà poco non certo però a tutte le altre generazioni per le quali è stato un maestro di calcio e di vita erasmo santoro il cui cognome fu subito cassato dai barlettani a favore di questo nome insolito quasi di ostica pronuncia diventato eresmo se non addirittura eresmo è stato infatti un allenatore di calcio un allenatore con la maiuscola perché ha sempre soltanto allenato squadre giovanili per questo da ieri sui social si sono riversati affetto ricordi e aneddoti perché chiunque abbia giocato a pallone è passato quasi obbligatoriamente da due figure fondamentali lao chiapulin chiapulin come lo chiamavano che curava soprattutto le giovanili del barletta ed eresmo appunto erasmo santoro era originario di santerra mincolle ma subito dopo il servizio militare a prodò a barletta dove è rimasto tutta la vita iniziò subito ad allenare squadre come il bar tatò san francesco la proiuve dei sarcinelli restando in quel mondo a formare calciatori e anche uomini indimenticabili all'epoca i tornei della canicola all'ello simeone a cui partecipavano autentici squadroni composti dalla meglio gioventù del territorio e anche da calciatori professionisti e le squadre di erasmo erano sempre tra le favorite è stato inoltre il primo allenatore a portare i suoi giovani a giocare all'estero numerosi i campioni forgiati da erasmo santoro da giuseppe pavona gaetano stellone e ilario monterisi a salvatore cascella tanti i calciatori diventati a fine carriera anche suoi collaboratori come umberto casale i suoi ultimi anni non sono stati facili a causa di seri problemi di salute ci lascia un altro pezzo di storia della città di quella barretta dove operavano uomini che non hanno mai avuto grandi titoli sui giornali ma che ognuno con il suo impegno la sua professionalità la sua passione in ogni campo era parte di una formidabile classe dirigente dicevamo che per intere generazioni giocare a calcio significava passare quasi certamente da leo chiapulino da erasmo santoro a chiapulino è stato meritoriamente cointitolato il palazzetto dello sport crediamo e auspichiamo che in qualche modo anche erasmo non vada dimenticato